Comunque penso... è bello che sarei con... Ma sei scemo? Cosa? Ma hai visto che figa è passata o no? Ma chi? Lei deficiente! Ah sì amore l'ho vista, ti giuro che l'ho guardata, amore l'ho guardata, te lo giuro. Ma tu stavi guardando solo me? No amore ti assicuro, guarda io proprio l'ho guardato il culo con anche... Cioè l'ho mangiato il culo con gli occhi tipo... Sei un cagnolino fedele e senza palle. No no amore, amore aspetta, amore le chiedo il numero, guardami amore, scusami, scusami, Ehi, tu gli sto chiedendo il numero amore, guarda! Amore? Eh? Guarda cosa ho portato qua per te. Ma non lo voglio il tuo telefono. Perché? Perché non ha bisogno. Dai ma guardami Whatsapp. No, non mi interessa. Gli sms? No, mi interessa. Almeno una mail. Ah no, mi interessa. Ah sì quindi mi stai dicendo che hai totale fiducia in me? Certo! Guarda mi fai proprio schifo. Ma... Ma... E niente, io ho mandato un messaggio lunghissimo nel quale mi sono dichiarata. Oh speriamo che mi risponda come si deve eh. Sono mua, mi ne vedrai. Aspetta! Mi ha risposto! Cosa ti ha detto? Mi ha scritto ok! Oh mio mio! Mi ha fatto morire! Oh sì! Amo ma quanto bella sei! Quando bella sei! Quando? E' tutta mia, tutta mia. Ciao tesoro. Ciao bellissimo! Come stai? Tutto bene? Bene bene. Amo, e questo che minghia è? E' un mio amico. Ma piacerissimo! Ma sai che mi è piaciuto proprio tanto come l'hai salutata? Ma certo che ce lo potevi dare un limone una bella slinguazzata eh! Posso? Ma certamente ma sai cosa si dice di noi del sud? Che non siamo assolutamente gelosi! Ma prego! Ma prego! Che bello condividere la propria ragazza con gli sconosciuti! Che non ce lo piace! Un like tattico sul culo! Bravo! Bravo! Tesoro andiamo al ristorante? No ma che ristorante è ristorante? Ma andiamo da tua mamma! No dai da mia madre no! Come no amore dai è così dolce! Facciamo un bel pranzettino di famiglia io, te, tua mamma e persino tuo padre che mi chiede tutto il giorno cosa voglio fare nella vita eh! Va bene! Ah amore possiamo stare anche a dormire però? Dai! Amore mi piace dormire dalla suocera! Ce l'ha? Sì? Ma sbaglio o sei ingrassata come una vacca? Mi dici sul serio? Minchia! Lo stavo notando anche io eh! Però sai pensavo fosse vero! No no filetti che è verissimo! Anzi prima ti guardavo e dicevo ma che ciccionazza è diventata? Mamma mia sto esplodendo! Poi lo siete in ghappone! Questa pancetta alcolica figa l'antisesso però! Dai amore dai un po' così arossisco lo sai! No dai! Dobbiamo mangiare un po'! Piccola oggi sono carico! Per cosa? Ma per andare a fare shopping! Eh no dai non lo voglio! Dai amore ti prego! Voglio vedere la bunte slinga! Dai! Che palle sempre sta bunte slingua! Amore andiamo a prendere le borsette! No ti ho detto di no! Amore ti prego dai uso la mia carta di credito! No! Amore ti prego dai ci sono i salti! Ti ho detto di no! Quando c'è la bunte slingua non mi devi rompere le palle! Ok! Via! Come se! Mi amore ho bisogno di parlarti! Dimmi! È successo una cosa ieri ma volevo dirtelo di persona! Ti ascolto! Praticamente mi ha scritto la mia ex! Davvero? Oh è bellissima sta cosa oddio! E senti come sta? Come sta? Ah no lei sta bene! Ma vi rivedete? Sai questo non lo so non ne abbiamo ancora parlato! Ah vi rivedetevi no scrivile! Incontratevi! Fate una bella trombata magari no? Dici? Sì dai come ai vecchi tempi! Ma si ma ci sta! E dai! E no! Oh mi raccomando eh! Poi se trombate fammi sapere com'è! Sai che a me piace tanto quando metti a confronto con lei! Ah aspetta! Se son mai eh! Eh ok! Mi raccomando impegnate eh! Buona trombata amore! Ciao grazie! Ciao ragazzi siamo i Pantellano su Questa Era! Se le relazioni fossero al contrario! Se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su! E a 130.000 like uscirà un nuovo video! Noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito anche questa settimana! E ringraziamo soprattutto Angelica Massera per aver partecipato al nostro video! Trovate tutte le sue info in descrizione! E ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video eee... Un saluto Pantellano a tutti! Quindi se siete arrivati a questo punto del video commentate con... Soffitti! Che li dobbiamo rifare a casa! Soffitti! Mi raccomando!